Eccoci qua ragazzi con un'altra parte del gameplay, del let's play, della guida a Super Mario de los Levels. Ecco, cominciamo con questo vento che già mi fa incazzare. Salvo. Bella rincorsa e... perfetto. No! No! È difficile cazzo, è difficile, ma veramente? Ma... Cioè, sembra una cazzata, in realtà è veramente difficile, non potete mai immaginare quanto. Dai, dai! Tanto salvo. Dove... devo... cioè, voglio provare a... cioè, cazzo, questo pezzo è difficile. Sai! Vinto! Vabbè, vinto, magari. Eh, c'è l'acqua. Oh! Oh, ehi! Oh, ehi! Oh, ehi! Lo stavo per dire. Ale! Ma dai! Ma dai! Ma dai! Ma dai! Oddio! Ma dai! Ma dai! Eh, c'era da bene la rincorsa stavolta. Fermati! Ancora. Stessa identica menata di borsa! Ma dai! Ma dai! Ma dai! Non mi fotti! Oddio! Oh! Vabbè, dai! Speriamo in meglio. Livello uguale. Che miseria. Questo qua di sicuro contiene qualcosa! Sembra che proprio... Freni col freno, proprio... Che non ha neanche... La macchina più merdosa al mondo. Ma vai a cagare. C'è neanche la macchina con uno di cilindrata frena così. Sto qua lo prendo, però. Eh, però adesso sono fottuto. Dio! Oddio, proprio. Perché faticare quando... Cosa è successo? Oddio! C'è il livello ripetuto! No! Oddio, come si fa? Un bonus! Vabbè, prendiamo le monete e già che ci siamo. Sti cazzi, se no le ho prese tutte. Ma doiii! Cioè, io non ci capisco un cazzo. Vi giuro, ragazzi, che... Ma porco Dio! Cioè, è difficilissimo. È uno dei giochi... È uno dei giochi di Super Mario, se non il gioco di Super Mario più difficile che abbia mai visto. No, è difficile, cazzo. È troppo difficile. Come si fa? Come si fa, ragazzi? Come si fa? Dittemelo, come si fa? Come cazzo si fa? Oddio! Allora, adesso... No, dai, cazzo. Un minuto. Oh, ho provato ad uscire lì dal bonus, lì, insomma da qualcosa, lì... Adesso provo a vedere cosa c'è. Spero di non essere messo in un'altra warp zone, perché altrimenti mi arrabbio, eh, sul serio. Eh, ma dai! Vai fuori... Dai, coglioni. No, dai, anche tu levati però, eh, levati. Non ti sopporto, sei una testa di cazzo. Salva. C'è Noè. C'è Noè! Ma dai! Ah, ah, sei Nabbo. Oddio! Dio porco! C'è Noè, è difficilissimo, ragazzi, è difficilissimo. Se volete scaricarlo, cercatevelo su internet, però guarda... giocateci a vostro rischio e pericolo. Cioè, perché veramente il gioco di Super Mario è più difficile che ci sia mai stato inventato! E io ho scelto di farci il let's play. Perché? Perché ho scelto questo gioco? No, dai! Ho preso anche una zuccata! Ma allora ho un vizio. Allora... Ah, no! Per fortuna, non sono capitato in una warzone. Bisognava fare... Andare lì nel bonus. Vabbè, almeno... Vabbè, perché quella cosa lì a livello ripetuto... Lì mi pareva un po' impossibile da fare. Vabbè. Salviamo e... Ma qui i livelli sono tutti uguali. Porca miseria! Andiamo qua, stai fermo, Luigi. No! Oh, e dai, però non si vede anche dove atterra. Qui. Stai... Più... Oh, bravo. Che cazzo! Ma dai! Devo atterrar lì, ma è difficile. Eh, eh, eh. Molto. Ma dai! Cazzo fai i salti suicidi! Ma dai! Ma dai! Non so dove atterrerà. Per fortuna, guarda. Ma dai! Sto Luigi di merda fai i salti suicidi. Oddio! Oddio! Non male! Stai fermo, va! Che salvo! Oh mio Dio Cioè sto avendo parecchia fortuna Pelo, pelo, che pelo Non fare cazzate Ti ho detto di non fare cazzate Perché? 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 Oh mio Dio Se hai salto in lungo Luigi, vuoi fare? Tanto non ce la fai Ok No Perché? Perché? Ostia Perché? Non è possibile Stupido gioco di merda Stai fermo Stai Porco Ce l'ho fatta finalmente Dio Stai fermo Atterra lì Salviamo Spero che questo livello sia terminato Gesù Cristo Ma basta Ma dai Cioè io ringrazio il cielo che esistono i save state Perché altrimenti io Se avessi avuto il NES L'avrei già spaccato a metà Dalla rabbia Che io quando Quando perdo dei videogiochi Mi arrabbio Ma veramente tanto Ma tanto Ma dai Ma vaffanculo Ma dai Aspettate Vabbè Un attimo Faccio un piccolo Oddio Stai fermo Sei un coglione Luigi Guarda Grazie Oh signore Grazie Perché? Perché mi è toccato questo gioco? Cominciamo a vestemmiare Oddio Oddio Oh Sì c'è la piattaforma Meno male Cioè no Oddio Se c'è anche qui il livello che si ripete mi arrabbio Via Cazzo 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 Ma Che cazzo Tutti Tutti trucchetti di merda Fatti per Per far perdere Chi gioca Anche qui di sicuro Ho problemi di tempo Oddio Quanti ce ne sono Oddio Un attimo Allora Dato che ho problemi di tempo Qua faccio un taglio E Cioè non lo so Cosa potrei fare Ma veramente non ce la faccio Far Farci stare Tutta questa cosa Sta roba in una Parte Salvato Due volte Salvato Vaffanculo Vaffanculo Se tratta rughe di merda Vai a cagare Ma dai Dai Qualcosa mi fa capire che qua c'è il livello ripetuto Allora Adesso Veramente faccio un taglio Arrivo Vabbè non mancava tanto a Bowser Eccolo qua Oddio Anche lancia Lancia anche i martelli Vabbè Non ce n'è bisogno Cioè Lo sconfigo sempre Bowser è la parte più facile Vabbè Ci siamo riusciti anche stavolta Quindi noi ci sentiamo Con la prossima parte di Cioè anzi Con l'ultima parte di Superamarchio Lost Levels The Lost Levels Ciao a tutti Alla prossima